Ti vorrei parlare di un film che ho rivisto recentemente, sempre uno pubblicato grazie a voi nella collana Cinecult che è Le Altre, che è un film, uno dei primi film, che parla dell'omosessualità femminile di una coppia credo sia del 69, 70 è stato fatto immediatamente dopo Le Salamandre esatto, e che a me è piaciuto, nonostante sia datato, ovviamente non è un film ovviamente moderno ma che per l'epoca poteva anche esserlo molto per due motivi, il primo è perché mi sono molto simpatiche le due protagoniste, Erna Schurer e ho un debole per Monica Strebel che ritengo una donna tanto caruccia, tanto erotica, quanto però anche enigmatica c'è qualcosa di Monica Strebel che mi ha sempre intrigato, c'è qualcosa di torbido, misterioso non so se la pensi anche tu questa cosa Monica Strebel dovresti chiedere a Gianni Macchia che è un suo grande amico sono rimasti molto amici, mi raccontava Gianni che un paio d'anni fa sono andati a villeggiare in una delle isole greche, lei sta adesso, vive adesso in America è un'attrice abbastanza interessante, svizzera di origine, ma ha fatto dei film molto curiosi secondo me questo qui le altre chiaramente nasce per cercare di cavalcare l'enorme successo che avevano avuto le salamandre di cavallone e infatti recupera una delle due attrici, Erna, Emma, Emma Costantino in arte Erna Schurer è una produzione che ruota intorno a Carlo Maglietto che era l'uomo fidanzato di Erna allora e che già era stato coinvolto come definiamolo così produttore delle salamandre per cui ho preso atto del successo di quel film che aveva avuto veramente un successo straordinario hanno detto facciamo qualcosa del genere e fecero le altre mentre le altre è una rarità perché invece ha circolato poco ha circolato pochissimo, il regista era questo Alessandro Fallai che non si capisce bene iracheno piuttosto che libanese, non ho mai capito bene comunque era uno che era venuto in Italia, aveva fatto, all'epoca aveva girato alcuni film tra l'altro io non ho mai capito bene ma c'è il sospetto che la bambola di Satana l'abbia fatto lui o in qualche modo fosse lui coinvolto in questo film dove anche lì c'era la Schurer ma sì è un film che la cinecalta ha tirato fuori questo titolo che era un titolo perduto ma appunto è un film come si diceva allora sulle lesbiche fondamentalmente lo stesso filone delle salamandre e lo stesso filone anche delle biche ti ricordi quello francese no? e tra l'altro le salamandre secondo me si intitola così proprio perché c'era l'antecedente delle biche le cerviate in francese e quindi si sono inventate le salamandre perché salamandre cosa c'entrano con il lesbismo? quello che pochi sanno è che dopo questo enorme successo avuto dalle salamandre che incassò veramente l'ira di Dio essendo costato veramente due lire Marina Cicogna aveva offerto a cavallone di rifare praticamente le salamandre su scala maggiore con una produzione che era quella della Euro ma lui si rifiutò perché la condizione minima necessaria perché facesse questo film era che la protagonista fosse Florinda Volcan siccome a lui Florinda Volcan proprio non andava non lo fece e vennero a cascata tutta un'altra serie di film ripeto le altre è uno di questi ma poi se ne fecero anche altri che avevano come tema fondamentale e sostanziale appunto il tema del rapporto come si diceva allora del rapporto particolare tra due donne poi in realtà sono film nei quali non è che si veda niente cioè non è che ci siano situazioni particolarmente erotiche o giusto dei nudi, degli avvicinamenti ma poco di più però era un filone molto rilevante recentemente ho rivisto un film di Filippo Walter Ratti che si intitola I vizi morbosi di una governante è possibile che è un film già più avanti mi pare del 72, 73 dove addirittura c'è a un certo punto un gioco che fanno i protagonisti devono mimare il titolo di alcuni film e ancora a distanza di 5 anni, 4 anni quanto era dalle salamandre viene fuori che non mi ricordo chi una delle protagoniste mima un titolo ed è appunto le salamandre cioè questo per dire comunque che erano film che persistevano anche nell'immaginario cinematografico anche a distanza di anni poi vabbè il lesbismo è diventata una componente fondamentale del cinema di genere italiano per cui la scena lesbo la trovavi dentro in quasi ogni thriller, in ogni horror cioè era il condimento usuale nel cinema di genere e le altre è forse il primo tentativo che è stato fatto di appunto di andare in scia alle salamandre ovviamente con molto meno successo rispetto al film di Cavallone però è un bel film, è divertente cioè qui c'è l'idea in più che si mettono in testa le due donne, la Strebel e la Schurer di avere un figlio quindi c'è anche questo tema abbastanza originale per l'epoca